Mai avuto Amo con 12 di armor? Vabbè Ma è uscita una patch inut a qualche parte E l'Amo mi si va sempre con 10 di armor Non so se l'ho sculato Dovrebbe essere fisso no l'armor? Qua adesso non è più un range Non so, mummia probabilmente Vediamo Non lo so in realtà In questo banone non è che mi convinca troppo Mi avessi dato banone e mi sei risparmato due vite Ehm Non lo so se si può dare Perché effettivamente due vite e poi magari ci perdi in late, no? E qua non è male questo Allora ci sto a dare banone Prizereste e fastidio bot A turno dopo noi facciamo tier up, roll e prendo pezzo Mi ho sbagliato a non tirare la banana Però l'ho preso a seconda mummia Perché appunto era una seconda e si pompa una vicenda E perché comunque Omu Quando non parti di token è quasi meglio si livelli a turno 3 Ciao Alvis Ciao ragazzi Allora Lui adizio dipende il secondo draghetto Ok Eh non è male questo Tra l'altro forse l'esploratore paziente è anche meglio Allora il discorso è che l'esploratore paziente Si può prendere Una tripla di mummia No ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' a quest'ina 27 Questo è ottimo Però il reward fa schifo Questa è no? Quanto è difficile distruggere 30 servitori nemici Però è broken sta reward Alla fine di tutto uno Due servitori attivi nei gridi di battaglia Anche questa è rotta È rotta anche questa Perché far attaccare i servitori 10 volte È veramente poco ragazzi È veramente veramente poco Però cavolo di triplare con due pezzi Anche secondo me è quella di mezzo Ragazzi Eeeh Un 1 Un forte così Brave Questo meno Meno bello questi qua che cazzo No Ah ragazzi mi raccomando Se il video vi sta piacendo Like E se volete proprio esagerare Il commentino È il top Holy shit Questi l'hanno preso troppo forti Allora facciamo prima così Ok mi sono la tripla Allora Questo Mi piace il tuo modo di pensare Sempre meglio avere qualche servitore da giocare Picco È stato un turno forte dai Alla fine Non si può non prendere copie di sovrintendente Con fastidio bot E demon che mangia il pezzo abbaffato due volte da sovrintendente Cioè turno 5 Ci siamo potenziati infinito È chiaro che vende la Naga 2-1 Non è il Nats Vista la quest Vabbè che in realtà sta questa ragazzi È forte da fare con Il Drago 2-8 Annikinan E il 3-1 Che pompa la board Dopo se non si farà Salvo Shopstrani Tier up Roll HP Roll by È rimasto al 3 pure lui 7 su 10 Cioè questa questa era troppo facile ragazzi da fare Perché se ci pensate alla fine io qua ho spagato 7 pezzi Da questa a destra la finivamo domani mattina Purtroppo devo farla adesso Non è male anche la Il punto è che pure Menas è forte Però non riesco a farla 6 Qui allora faccio la triple adesso Eh già Perché se neanche prendessi Menas Pronto dopo costa 10 livellare Vendo questo Livello 2 gold extra Non basta Non riesco a farla 6 ragazzi Lui Quindi preferizza Hai buone possibilità di vincere Adesso la prossima Se lo stai Decisamente meglio così Ho trovato pure il Drakis Perché il Nath consta questo E si rivella Si fa TAC Fai TAC Questo salta Ok Allora Merda ragazzi Qui Allora Il pipistrello è devastante Però è forte anche il robo Zaraxus Vabbè il pipì sempre Queste le tiro sul drago Lo scudo Questo ne mangia uno E poi loro ne mangiano due per pipì E questo mi dà Mi dà il pezzo Spittiamo Stiamo forti ragazzi eh Mamma mia Stiamo forti Abbiamo il pipistrello Abbiamo merenda che si attiva due volte Ogni turno Io Qua io sono tentato di livellare A 6 Che è vero che effettivamente Si cercherebbe brand Vabbè Ok Posto Stai davvero creando una grande armata Beh Che vuoi dire a Bob qua Grazie Dici I prossimi I prossimi da far saltare Sono i due mech E Niente Adesso Cosa ti ha due volte Con brand Questo pure Quindi in realtà Questi due Cioè Funzionano insieme Anche senza il pipì Il pipì adesso è un'aggiunta Perché questo mangia Lui pompa Insomma Scommono uguale Lui mangia due volte Poi il pipì Gli fa Mangiare altre due Un'altra volta Questo mangia tre pezzi Questo ne mangia uno Poi questo ci dà il drago Cioè star clean Lui salta i mech Di base Cosa si prende ragazzi Si potrebbe valutare Di prendere il 3-1 A fare su drachissat Teoricamente Kylgos è più forte Comunque Che fare pipistre Che fare demo Tra l'altro Stiamo a T8 Ragazzi Siamo insani Però in Kylgos A partite finite Rimane con uno di vita Bella turnone Turna festa Turna festa Turna festa Turna festa Turna festa Grazie Let's get beat Quarto mese di Prime Thank you Sono con la mummietta Però ragazzi Lui è a taverna 4 Io sono a taverna 6 Cosa ci capiamo Ciao Diego Ragazzi Mi sono dimenticato Di mettere sul titolo I dice Adesso li mettiamo Questo l'ho preso Potrei prendere anche Uther Però non serve Sono già grossi roll What Allora aspetta Prima via questo Facciamo questo qui Zaraxus Nadina Cioè ci sta a prendere Accordo bot e percussionista Zaraxus E che è usare Zaraxus qua Su fastidio bot e cosa si prende Le stats doppie Anzi Su Zaraxus diamo le stats Ha senso Tivo avendo lui Faccio Zara Prendo lui Tiro le cose su Zara Poi attacco questo su Zara Questo se lo prende Provo Destruzione Ocidentro Anche io avrei scelto quello Cazzo già la scama pure con questo Vero E non mi appare Che non mi appari Tre cavalli seguiti live E adesso Follo Vero Assolda pure Una di queste Ah di raga è questo O no Cioè questa roba qui è fortissima Con due magnetismi a turno 10-9 Prende Prende Roll Questo se rollo Wow un altro 6-10 Qua sarebbe da far saltare Pipistrello Non so se voglio 6-10 Nel senso non abbiamo la build Con meca Zaraxus E questo Non credo di voler farlo Roll Ok questo mi piace molto 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 di più Per la giustizia Buon reaper Stai andando bene Chiaro che mangiando con questo Il porire poteva andarsene Qua devo far saltare il drago È una build nuova ragazzi Quindi sto un po' improvvisando Perché effettivamente Meca Zaraxus Con Bran È una build strana Ma effettivamente È devastante Mi deve saltare il generale Draxia Qua ho rischiato di non attivare Zara Ok è andata bene lo stesso Allora Purtroppo mi sono mangiato Però l'altro Sia questo Non credo Gli interessi utili In realtà Fuori per la buono Mamma Ho mangiato Roll La carie è fortissimo Cioè è letteralmente Illegale Roll Holy shit Non si prende Caligos Ormai ho fatto un'altra build E La domanda è se vogliamo Fasare il 79-60 Per Zaraxus Ma 79-60 Ragazzi sono tante stats Tante tante stats Meglio assoltare una recluta Che puoi farlo Però non so se poi con Zaraxus Se le ripigliamo Ho capito il tempo Falta Merda Mi indebolisco È tantissimo 79-60 Ragazzi Però effettivamente con Dracari Il Jaraxus Sdoppiato È È forte È forte E me ne danno Tre la testa No? Tre questo O me ne dà di più? Quattro me ne dà Devo tirarle queste Che poi si poteva ragionare Sul fatto che effettivamente Fosse meglio Non averle triple E con le triple Faccio meno magnetismi Quindi scalo meno con quell'altro Però posso triplare Percusionista Cioè È veramente meglio così Ne va a casa Vediamo una Due triple Tre triple Partita Prima roll Cerco la tripa di percussionista For hyper Non so se questo Non so se questo abbia un senso Probabilmente ci può stare A pigliarlo Come run goal Io lo dico sempre Fai le cose in grande Fanno stati i magnetismi Roll Vabbè È arrivare di far saltare Questo signore Credo Che Restrizione di sicurezza disattivante Attivazione Meccanismi di indiettura Mi mangia delle stats così Ho sbagliato Prima di giocare For hyper Devo toccare Altro triple Mi sono mangiato Due pezzi Ah Hai ragione Devo attivare Jara Però ho sbagliato Ragazzi Mi sono distratto Un attimo Hai visto Mi sono distratto Sto turno Ho sbagliato Sia il pezzo Lì che hanno attivato Jara Col drop a 5 Non so Mi abbia Discorrato un altro E poi sì Dovevo fare prima Delle altre triple Per cercare appunto Di liberarmi Spazio di male Comunque sì Vendiamo a draccare Nel caso in cui Non si esca triplare Ho già vinto Beh Allora È stato un po' Forse questo Anticlimato Questo ultimo turno Perché potevo fare Cosa di meglio Ragazzi Ma la build Era bellissima Cioè Secondo me Non era banale Passare Con Avevamo Due vie In testa Che era O demoni O draghi E siamo finiti A fare Branco in mech Questa è Ciao youtube Sì 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 Ragazzi Salutateli Salutateli Perché questa partita È veramente bellissima Adesso Parlo di quest'ultimo turno Che ho missato Qualcosina Ma Questa ragazzi È una partita Da 15k MMR Adesso Vuole dire Ma Questa è stata Una partita Di livello Questa è una partita